Attilio Urciuolo, e-commerce e web design. Avvocato Massaro, davvero un successo importante da parte del pool legale difensore dell'Avellino e del presidente Walter Taccone. Tre punti di penalizzazione, ma soprattutto prosciolti quasi tutti i tesserati bianco-verdi, compreso il massimo dirigente. Sì, il 50% del lavoro era stato fatto per quanto ci riguarda già all'udienza del 3 marzo, quando la procura federale ritenne di non richiedere alcun che per quanto concerne la responsabilità diretta. Oggi abbiamo completato il lavoro e abbiamo dimostrato l'assoluta estranetà del presidente Walter Taccone dalla chiamata in corretà fatta da Pini in merita all'omessa denuncia relativa alla partita Modena-Avellino. Attendiamo di leggere le motivazioni del provvedimento del Tribunale federale e comprendere le dinamiche che hanno portato alla condanna per responsabilità oggettiva dell'US Avellino in merito alle condotte contestate a Izzo, Millesi e Pini. Ecco, come detto, Avvocato ovviamente c'è soddisfazione per questo risultato ottenuto, da un punto di vista invece prettamente formale ovviamente resta purtroppo quest'onta dei tre punti di penalizzazione per un qualcosa in cui l'Avellino si è dimostrato anche a processo completamente strano. Sì, anche perché da un punto di vista formale va da sé che il punteggio di Modena-Avellino era un punteggio che sfavoriva la nostra squadra, ammesso che ci sia stata poi l'attività contestata al Millesi, a Izzo e Pini. Io ritengo che il punto di penalizzazione dato in merito ad Avellino-Reggina sono quasi certo che cadrà in appello perché proprio per quella partita non c'è stato proprio alcunché. E quindi se dovesse cadere il punto per quanto riguarda la partita con la Regina e quindi anche il punto per la recidiva potremmo alla fine ritrovarci solo con un punto di penalizzazione.